Dal Salone Polivalente del Cantiere di Possaccio Teo cosa ci fai già fuori? Stavo facendo la presentazione Tu, no, presente, presente tranquilla che io devo fare una cosina intanto Mi stai sporcando la scenografia, non sei nemmeno capace di attaccare il manifesto Teo Almeno dimmi di che cosa si tratta Dal Salone Polivalente del Cantiere di Possaccio Dal Salone Polivalente del Cantiere di Possaccio Ecco a voi la quarta puntata di CreatiV Il cui presentatore non si capisce cosa stia facendo Sto facendo pubblicità a corti di memoria visto che il 29 ci sarà la proiezione presso il Cinema Sociale di Omegna E mi faceva piacere insomma ricordarlo proprio in maniera fissa in questa puntata Perché chi si è perso la puntata di settimana scorsa dove c'era Claudia che presentava il progetto Magari non sa che appunto il 29 al Cinema Sociale di Omegna verranno presentati questi cortometraggi sulla memoria E quindi una rivisitazione della Resistenza 60 anni dopo Quindi un sacco di roba da dire ancora prima di aver lanciato la sigla della trasmissione Senti però, io l'altra volta ci ho preso un po' gusto Vorrei avere così una chicca, un'anticipazione di quello che succede oggi Dai dai E allora ti lancio una clip sempre veloce veloce Un autografo Allora hai riconosciuto dall'autografo chi è il VIP di questa settimana? Guarda, ho letto con affetto e stima però non ho distinto il resto Come no? Michele Placido che ci è venuto a trovare proprio... Ah, come non averlo capito, scusa Proprio qui a CreatiV Ma le novità non sono poche questa settimana Abbiamo una news sugli SMS Tipo? Che ci saranno anche SMS da Migiandone, da Crusinallo, da Crevola Dossola Perché ci rimanderanno dei ragazzi, è vero? E anche da Cavaglio Spoccia, da Miasino, da Antrona Schieranco Da tutto il VCO e anche zone limitrofe Mi raccomando 348-09-04-594 Scriveteci i vostri SMS Li vedrete passare qui in trasmissione appena inizia la puntata Quindi dopo la sigla Centro chitarre Nuova area batterie e impianti audio Assistenze e ricambi per ogni strumento Musicland Strumenti musicali a Domodossola Più vista la fabbrica dell'occhiale Vendita diretta Produzione propria Controllo della vista computerizzato Più vista la fabbrica dell'occhiale A Bermania Trobaso Più vista la fabbrica dell'occhiale